Grazie Presidente. Io mi associo al ringraziamento di Giovanni rispetto al fatto che effettivamente Stefano Mugnai ha per primo sollevato questa questione. Noi l'abbiamo naturalmente sottolineato a livello nazionale, il Movimento 5 Stelle a livello nazionale ha fatto un esposto alla Corte dei Conti effettivamente e quindi siamo molto preoccupati di come vanno le cose. Non c'è assolutamente da essere contenti. Lo dico da medico, lo dico anche da animatore della formazione all'interno dell'azienda sanitaria di Firenze dove io ho lavorato fino a pochi mesi fa e devo dire che questa caduta assoluta di stile nell'organizzazione di un corso di formazione è assolutamente grave. Penso che sia grave anche il fatto che diventino blindati certi direttori generali. Mi pare, ora io non sono un esperto di questo Consiglio ancora, spero di diventarlo piano piano, ma mi pare si fosse fatta addirittura una commissione di inchiesta sulle strutture edilizie di proprietà dell'ASL. Ne abbiamo un numero molto importante, abbiamo strutture adeguate per fare corsi di formazione, con i soldi con cui si fa la formazione si possono ristrutturare e qui si continua a fare formazione esterna e diciamo in una struttura che casualmente, ripeto quello che hanno detto altri, appartiene a un senatore del PD. Ma è interessantissimo organizzare una caccia al tesoro in 26 giorni, io credo sia una cosa incredibile. Io l'organizzavo in qualche ora, sinceramente, 26 giorni ho visto scritto con un costo di 34 mila euro per nove persone, nove persone si sono messi ed erano profit. Immaginatevi se era profit quella struttura. Mi preoccupa però di più il fatto che non ci sia stata una risposta sulle domande che abbiamo fatto. Se considero opportuna o consono la spesa di 100 mila euro per due giorni di formazione del personale dirigente in un contesto economico avverso. Sì, è vero, i soldi per la formazione sono finalizzati, non possono essere spesi diversamente. Ma c'è da formare tutti quelli che devono lavorare nel DEA. Si è fatto dei grossi pronti soccorso, questi non ce la fanno a organizzarlo, ci sono letti dappertutto, non c'è l'ospedale che li accoglie perché sono stati ridotti i posti letto e si fa la formazione per dare un premio a dirigenti, perché sembra questo. Queste cose prima le facevano le case farmaceutiche, non le direzioni aziendali. Io dico che è inopportuno, io dico che è immorale, invece avete detto che è immorale. Ho chiesto quali erano i contenuti del corso, qui non c'è scritto quali erano i contenuti del corso. Semplicemente amalgamare e fare squadra. Se si va in un campo sportivo si fa prima, Gianni ce non segna un esperto da questo punto di vista. Con una battuta. Ho chiesto se sono stati fatti altri preventivi. No, non sono stati fatti altri preventivi. Anche questa è una cosa interessante. Perché non sono stati fatti altri preventivi di altre location? Semplicemente perché lo yen, che sembra una moneta giapponese, ha detto che il barga era la cosa migliore. Ma insomma, qui diciamo, siamo un po' dilettanti su questa cosa. Altre sedie di proprietà dell'Asd, ce ne sono da buttare via. Anzi, si stanno buttando via, Borgogni Santi sta crollando, Villa Basileschi in delle condizioni pietose, San Salvi fa pena. Tutta roba dell'Asd che non viene sfruttata, utilizzata, ha un patrimonio anche storico straordinario. E noi si va al gioco. Ho chiesto se la scelta del commissario sarà oggetto di valutazione da parte della regione, anche rispetto al sistema premiante aziendale. Perché io sono convinto che è capace e verrà anche premiato questo direttore generale. Dopo la figuraccia che ci ha fatto fare a tutti e di cui tutti ci si dovrebbe vergognare, alla gabbia, in televisione. Io spero che l'abbiate vista. Non sapeva giustificare. E a un certo punto, in maniera arrogante, ha detto decido io. Ecco, qui risiamo su una politica che dobbiamo rivedere un attimo in termini di sovranità nostra, in termini di consiglio.